Mentre le autorità raggiungono il centro della rotatoria e quindi il monumento, vi do anche tutti i motociclisti a salire sulla moto per prepararsi. Mancano davvero pochi minuti, fra sei minuti dovremo fare il casino. Buongiorno Silvia, tutto a posto. Ok, quindi i motociclisti salendo sulle moto non accendete che è ancora presto. Lo facciamo tra un attimo. Doviamo andare un po' indietro. Indietro, indietro. Indietro, indietro. Scusate, un pochino più indietro. 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 Per comprare i biglietti. La biglietteria dell'autonomo è sempre aperta e mi aspetta. Autonomo che ritratiamo ancora per la collaborazione. È presente con noi il Presidente, insieme ai collaboratori che, con l'organizzazione comunale, mettono in piedi le manifestazioni, sia anche l'organizzazione dell'autonomo.